È arrivato il momento di cintrare a dovere Sì, lo celebriamo Il nostro campione del mondo Grazie Tipo Magnini Ah, Magnini Magnini, Magnini Nel frattempo sta giocando la Nations League Eh no, infatti, volevamo giocare la Nations League Però io e Leonore siamo accorti che manca la palla Quindi non possono giocare E qua ci sarebbero grandi battute da fare ma non le facciamo No, ci sono le squadre ma manca Senza cercar l'urologo Manca il pallone Scusate però, se a casa siete vicini a una come lei Per favore, non giocate a subbutti No È solo una semplazione, non l'ho fatto Bene, stavo dicendo che Cilippo Magnini Lo scorso dicembre a sorpresa ha dato l'addio al nuoto Oltretutto è stato un momento, lo devo dire, da sportivo Molto toccante A cui ho assistito in diretta Oltretutto vediamo com'è andato Perché io qualche lacrima l'ho fatto Abbiamo proprio un momento Vedi Guarda, è stato un momento proprio Ecco, guarda questo signore Questo è lui Che stava Che è convosso anche lui, vedi E vabbè, poi c'è niente E' lui vestito quell'altro Ma devo dire che quando ci sono dei grandi campioni così Noi abbiamo un grande intervistatore Dario Bergassola Non avete voglia Quindi saprà cogliere il vero animo, lo spirito di questo campione Ho visto che era molto interessante questa cosa Perché poi non si capiva niente Ma guardando il fisico a casa erano molto contenti Però due domande così Certi consigli può dargli solo chi c'è passato dalle disgrazie Cosa direbbe lei a un ragazzo che sta pensando di fare l'inviato all'isola dei famosi? Vabbè Come se la cosa sente? Beh no dai Per me è una bellissima esperienza Però di portarsi sacchetto da mangiare dietro Benissimo Altre cazzate? Vediamo Mi aiuti, mi aiuti Devo rifare il bagno in casa Vista la sua esperienza Se la sente di convincere mia moglie Che è meglio la vasca corta di un box doc? Basta vasca Consiglio solo la doccia Senta, scusi l'argomento Cosa ne pensa della morte? Cioè del momento in cui presumibilmente la pianterà di postare foto a cacchio su Instagram? Ma questo no Sarà un momento molto triste L'ultimo Non so, è quello che mi pare Però l'ho vista nella fiction di Raul Bova Come ha fatto a recitare visto che non è suo mestiere? Cioè pensi che la stessa domanda l'ho fatta anche a Raul Bova Vabbè questo è proprio Cioè spari zero su tutti Mi hanno doppiato tutto il tempo Quindi è stato facile